esaminiamo alcuni esempi di applicazione del primo teorema di Del'Hopital. Qui ci è riportato un primo esempio, un limite da calcolare. Prima di vedere come applicare il teorema richiamiamone brevemente le ipotesi e la tesi. Ricordiamo che dobbiamo avere a che fare con due funzioni f di x e g di x, continue in un intorno di un punto x con 0 compreso il punto, derivabili nell'intorno di x con 0 ad esclusione eventualmente del punto x con 0, la derivata della seconda funzione non deve annullarsi laddove è definita e inoltre deve esistere il limite per x che tende a x con 0 del rapporto delle derivate. Sotto questa ipotesi si ha anche l'esistenza del limite del rapporto delle due funzioni per x che tende a x con 0 e i due limiti, quello del rapporto delle funzioni e quello del rapporto delle derivate, coincidono. Quindi di fatto il teorema fornisce una chiave di calcolo del limite di una forma indeterminata del tipo 0 su 0 se si conosce o si può calcolare il limite del rapporto delle derivate. Esaminiamo l'esempio qui presente. Si ha da calcolare il limite per x che tende a un mezzo del logaritmo naturale di 2x fratto 2x meno 1. Intanto vediamo subito se si tratta o no di una forma indeterminata perché altrimenti non è indispensabile utilizzare teoremi o altri strumenti ma semplicemente i normali procedimenti di calcolo dei limiti. Per x che tende a un mezzo l'argomento del logaritmo tende a 1 e di conseguenza, visto che il logaritmo è una funzione continua, il numeratore tende a 0. Il denominatore per x che tende a un mezzo tende a 2 per un mezzo che fa 1 meno 1, 0. Quindi tanto il numeratore quanto il denominatore tendono a 0 e di conseguenza ci troviamo nel caso di una forma indeterminata del tipo 0 su 0. Come applichiamo il teorema di De L'Hôpital e soprattutto siamo nelle condizioni di poterlo applicare? Beh, intanto è chiaro che le due funzioni f di x e g di x che ci servono per l'applicazione del teorema in questo caso sono rispettivamente f di x il logaritmo naturale di 2x, g di x il polinomio di grado 1, 2x meno 1. Ci servono la continuità e derivabilità in un intorno di un mezzo, quindi nel nostro caso x con 0 è un mezzo. In un intorno di un mezzo, beh, il polinomio è una funzione sicuramente continua e derivabile su tutto r su tutto l'insieme dei numeri reali, quindi non ci sono problemi per quanto riguarda il denominatore. Per quanto riguarda il numeratore, il logaritmo è di per sé una funzione continua per ogni argomento positivo. Visto che dobbiamo muoverci in un intorno di un mezzo e quindi l'argomento del logaritmo si muove in un intorno di 1, siamo certi che anche il numeratore sia una funzione continua ed è una funzione derivabile. Questa è una funzione composta di due funzioni derivabili, 2x che è un monomio certamente derivabile e logaritmo naturale che è una funzione derivabile. La continuità e la derivabilità sono quindi garantite, quindi abbiamo le ipotesi numero 1 e 2 soddisfatte. Dobbiamo controllare la terza e la quarta ipotesi. Per quanto riguarda la terza ipotesi si può subito osservare che la derivata della funzione g, g' di x, è pari a 2 e cioè una costante e quindi è diversa da 0 per qualsiasi x reale e quindi anche la terza ipotesi del teorema di De L'Hopital è verificata. Per quanto riguarda la quarta ipotesi è ciò che dobbiamo ancora svolgere, cioè andare a vedere se esiste il limite del rapporto delle derivate. Andiamo quindi a calcolare anche la derivata del numeratore, le facciamo il rapporto e vediamo se esiste il limite. La derivata del numeratore la mettiamo qui sotto, f' di x è la derivata di una funzione composta. Facciamo spazio qui sotto. Allora si tratta di fare la derivata del logaritmo che chiaramente ci porta a 1 fratto l'argomento e poi c'è la derivata dell'argomento che è la derivata di un monomio di grado 1 e quindi semplicemente il coefficiente moltiplicativo 2. Abbiamo una semplificazione e quindi la derivata del logaritmo è pari a 1 su x. A questo punto dobbiamo fare il rapporto delle derivate, cioè f' di x fratto g' di x e vedere cosa viene fuori. Si ha che il limite per x che tende a 1 mezzo di f' di x fratto g' di x è uguale al limite per x che tende a 1 mezzo di f' di x abbiamo visto che è 1 su x, g' di x abbiamo visto che vale 2 e quindi abbiamo un limite banale da calcolare, un limite abbastanza semplice. Infatti ci troviamo con 1 fratto 2x con x che tende a 1 mezzo. Con x che tende a 1 mezzo il denominatore tende a 1 e il numeratore è costante quindi questo limite fa 1. La tesi del teorema di De L'Hôpital ci permette di dire che esiste anche il limite per x che tende a 1 mezzo del rapporto f di x su g di x, cioè il limite di partenza che stavamo cercando di calcolare e tale limite è uguale al limite del rapporto delle derivate che abbiamo appena calcolato e che fa 1. Quindi questo risultato lo possiamo riportare anche qui. Abbiamo visto così con un primo esempio come il teorema consente la risoluzione di una forma indeterminata calcolando le derivate del numeratore e del denominatore rispettivamente. Il secondo esempio che andiamo ad esaminare per l'eventuale applicazione del teorema è questo limite, limite per x che tende a meno 2 del seno di x più 2 fratto 5x più 10. Si tratta anche qui chiaramente di una forma indeterminata del tipo 0 su 0, infatti per x che tende a meno 2, qui al numeratore ci ritroviamo il seno di 0 che fa 0 e il denominatore è chiaramente nullo per x uguale a meno 2. L'applicazione del teorema per come abbiamo appreso dall'esempio precedente richiede che si debbano definire le funzioni f di x e g di x che sono rispettivamente il numeratore e il denominatore. f di x è quindi il seno di x più 2 e g di x è il polinomio 5x più 10 che poi possiamo scrivere come 5 per x più 2. Le ipotesi del teorema richiedono la continuità e la derivabilità delle funzioni f e g e quindi le prime due ipotesi sono quelle che dobbiamo controllare subito ma su questo non ci sono particolari dubbi perché un polinomio è una funzione continua e derivabile certamente su tutto r stesso digasi per la funzione seno che di sua è una funzione continua e derivabile anche se c'è un argomento che non è semplicemente x ma è x più 2 questo cambia nulla da questo punto di vista. A questo punto dobbiamo controllare la terza ipotesi andiamo cioè a calcolare la derivata della funzione g della funzione denominatore e anche in questo caso come nell'esempio precedente ci ritroviamo una derivata costante e diversa da zero. Quindi il mancato annullamento della derivata è garantito. L'ultima ipotesi da verificare è l'esistenza del limite del rapporto delle derivate. Questo limite può essere calcolato sempre per x che tende a meno 2 sostituendo le derivate delle due funzioni al numeratore e al denominatore. Dobbiamo calcolare la derivata della f. f' di x è uguale. Abbiamo la derivata del seno che è coseno con lo stesso argomento e poi dovremo moltiplicare per la derivata dell'argomento. Trattiamo cioè la derivata del seno di x più 2 come derivata di una funzione composta. La derivata di x più 2 fa 1, quindi lo scrivo per correttezza di notazione, ma chiaramente non influisce sul risultato finale. Ci troviamo quindi semplicemente con il coseno di x più 2. Quindi dobbiamo verificare l'esistenza del limite per x che tende a meno 2 di coseno di x più 2 fratto 5. Si tratta di una funzione continua al numeratore, di una costante al denominatore, quindi è chiaro che questo limite esiste. Sostituendo meno 2 a x otteniamo 0 come argomento, il coseno di 0 fa 1 e il denominatore rimane 5. Un quinto è quindi il valore del limite del rapporto delle derivate. Ci sono quindi tutte le ipotesi del teorema di L'Hôpital, per cui possiamo dire che esiste anche il limite per x che tende a meno 2 del rapporto delle due funzioni, cioè il limite della funzione di partenza, seno di x più 2 fratto 5x più 10, e vale esattamente un quinto, cioè quanto riportato nel limite del rapporto delle derivate. Il terzo esempio che prendiamo in considerazione è il seguente limite per x che tende a 0 di x al quadrato fratto tangente di x. C'è poco da discutere sul fatto che il numeratore è un infinitesimo e il denominatore è a sua volta un infinitesimo, quindi di nuovo siamo con una forma indeterminata del tipo 0 su 0. Procediamo con il solito metodo, definiamo le funzioni f di x uguale di x al quadrato e g di x uguale tangente di x. Si tratta palesemente di due funzioni continue e derivabili, quindi al solito le prime due ipotesi del teorema sono certamente verificate, dobbiamo solo controllare che non sia nulli la derivata del denominatore. Vediamo quindi di calcolare g' di x. La derivata della tangente può essere scritta in due modi, o come 1 fratto coseno al quadrato di x o come 1 più tangente al quadrato di x. Per chi volesse controllare questa derivata fondamentale e non avesse memoria di come ottenere questo risultato, ricordiamo che la tangente può essere scritta come seno di x fratto coseno di x e quindi si può calcolare la derivata della tangente applicando la regola di derivazione di un rapporto. Si arriva facilmente ad uno di questi due risultati. Ora, in un intorno di 0 il coseno di x assume valori in un intorno di 1, quindi siamo certi di avere a che fare con un'espressione che esiste e inoltre il numeratore è costante per cui è sicuro che la derivata del denominatore non si annulla in un intorno di 0. Manca quindi la quarta ipotesi, cioè l'esistenza del limite del rapporto delle derivate. Andiamo a calcolare quindi la derivata del numeratore f' di x è pari a 2x. Il rapporto delle derivate f' di x fratto g' di x è uguale quindi a 2x al numeratore e 1 su coseno al quadrato di x al denominatore che poi possiamo scrivere come 2x coseno al quadrato di x. Se passiamo questo al limite per x che tende a 0 ci troviamo con un coseno al quadrato che tende a 1 per x che tende a 0 e una x a moltiplicare che invece è un infinitesimo. Di conseguenza il limite di questa espressione fa 0. E abbiamo così risolto un'altra forma indeterminata del tipo 0 su 0 applicando il teorema di De L'Hopital perché questo è il limite del rapporto delle derivate e, come abbiamo già detto nel caso degli altri esempi, questo comporta che anche il limite del rapporto delle due funzioni f di x e g di x, cioè x al quadrato fratto tangente di x, deve fare 0. Come quarto esempio prendiamo in considerazione il seguente limite di una funzione razionale fratta, limite per x che tende a 1 di 2x meno 2 fratto x al quadrato meno 2x più 1. Controlliamo intanto cosa succede al numeratore al denominatore. Sono due polinomi, quindi possiamo calcolare i limiti separatamente per continuità ed è chiaro che il numeratore tende a 0 quando sostituiamo 1 alla x, ma anche al denominatore succede la stessa cosa. Qui avremmo 1 meno 2 più 1, quindi tende a 0 anche il denominatore e abbiamo la solita forma indeterminata del tipo 0 su 0. Se andiamo ad esaminare separatamente il numeratore al denominatore come funzioni f di x uguale 2x meno 2 e g di x uguale x al quadrato meno 2x più 1, non sto più tanto a discutere su continuità e derivabilità che sono ovvie per due polinomi come questi. Controlliamo subito la derivata del denominatore. G' di x è uguale a 2x meno 2, possiamo raccogliere il 2 e abbiamo 2 per x meno 1. Qui si vede che il denominatore per x che tende a 1, quindi in un intorno di 1, è certamente non nullo ad eccezione ovviamente del valore 1, ma ricordiamoci che sulla base delle ipotesi del teorema la derivabilità e anche il mancato annullamento della derivata devono essere garantiti per ogni x appartenente all'intorno di x con 0, escludendo il punto x con 0. Quindi c'è questa particolarità da esaminare in questo esempio ed è utile farlo. Di conseguenza una volta accertato che almeno per x è diverso da 1 il denominatore non nulla, abbiamo tutte le prime tre ipotesi. Al solito esaminiamo il limite del rapporto delle derivate per x che tende a 1, di f' di x fratto g' di x. Per quanto riguarda il numeratore abbiamo 2 come derivata, quindi stavolta è costante il numeratore, quindi ci ritroviamo con il limite per x che tende a 1 di 2 fratto 2 per x meno 1. Semplificazione a parte, si vede chiaramente che il numeratore rimane costante, il denominatore invece è un infinitesimo e di conseguenza il limite di questo rapporto fa infinito. Il teorema di De L'Hopital ci assicura allora che anche il limite del rapporto delle funzioni, cioè 2x meno 2 fratto x al quadrato meno 2x più 1, esiste e vale infinito, esattamente come quello che abbiamo appena calcolato. C'è da fare un commento relativo a questi quattro esempi che ho presentato. Si tratta in tutti e quattro i casi di limiti che possono essere calcolati in modo alternativo rispetto all'applicazione del teorema, quindi li abbiamo presi come esempi in cui il teorema funziona, ma in realtà siamo già in grado di calcolare questi limiti diversamente. Ad esempio prendiamo questo quarto limite, si tratta di una funzione razionale fratta e i polinomi quando si annullano ci danno un'informazione importante. L'annullamento di un polinomio per un dato valore di x ci dice che il polinomio è divisibile per un certo fattore, per esempio qua il numeratore e il denominatore sono entrambi divisibili per x meno 1, come già si vede per la derivata del denominatore. Infatti possiamo calcolare alternativamente questo limite approfittando di questa proprietà. limite per x che tende a 1 di 2x meno 2 fratto x al quadrato meno 2x più 1 si può scrivere come limite per x che tende a 1 di 2 per x meno 1 al numeratore e il denominatore è chiaramente un quadrato di binomio, precisamente x meno 1 al quadrato. Per x diverso da 1 si può fare la semplificazione e abbiamo così il limite per x che tende a 1 di 2 fratto x meno 1 che ci porta a infinito direttamente. Cosa vuol dire quindi che il teorema è inutile? No, semplicemente ci fornisce uno strumento in più per il calcolo di certi limiti e magari non tutti i casi possono essere così semplici. In ogni caso sarà più interessante esaminare gli esempi del secondo teorema di De L'Hôpital che porta sicuramente dei casi meno banali di questi.